Quattro decreti di sequestro preventivo. I carabinieri del Gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno proceduto al sequestro di quattro aziende operanti nel settore della metallurgia pesante e dell'attività conserviera nei comuni di Striano, Pagani e Scafati. I legali rappresentanti delle aziende sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di scarico abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti speciali pericolosi e in un caso anche del reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione. Il sequestro preventivo delle aziende, secondo quanto concordamente ritenuto dai GIP di Nocera Inferiore e Torre Annunziata, si è reso necessario per impedire il protrarsi dei reati accertati e l'aggravamento delle conseguenze degli stessi e così da evitare la compromissione ulteriore dell'ambiente circostante. Dalle indagini espletate dai carabinieri del NOE di Salerno e Napoli che si sono avvalse della collaborazione tecnica dell'ARPA che coordinate rispettivamente dalle procure di Nocera e Torre Annunziata, è emerso che la SRL I Sapori di Corbara, con sede operativa Pagani, operante nel settore della produzione e commercializzazione di conservi alimentari, effettuava lo scarico delle acque reflui industriali provenienti dall'attività di lavorazione in assenza di autorizzazione, mentre la Società dei Fratelli Cavallaro, società agricola, con sede operativa Scafati, operante nel settore della lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, aveva effettuato lo scarico nella pubblica fognatura delle acque reflui industriali provenienti dall'attività di lavorazione in assenza di autorizzazione scaduta da cinque anni e per aver smaltito illecitamente i rifiuti speciali provenienti dall'attività produttiva negli ultimi tre anni. Scarico delle acque reflui industriali in assenza delle previste autorizzazioni e per aver esercitato l'attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la GIMA, l'SRL, con sede operativa Striano, operante nel settore delle lavorazioni di metallurgia pesante. Anche la Agri-Conserve Rega, con sede operativa Sant'Antonio Abate, operante nel settore della produzione e commercializzazione di conservi alimentari, attualmente chiusa per la pausa stagionale delle attività, si attribuisce lo scarico delle acque reflui industriali in assenza delle previste autorizzazioni. I sequestri operati oggi si inseriscono in una più ampia articolata attività investigativa condotta in modo capillare dai carabinieri del Comando Tutela Ambientale e dai carabinieri forestali, avvalendosi della collaborazione tecnica del personale dell'ARPAC finalizzata ad accertare le cause dell'inquinamento del fiume Sarno per individuare eventuali scarichi abusivi di reflui industriali recapitati direttamente o indirettamente nel fiume e per interrompere le attività illegali che influiscono negativamente sullo stato di salute del corso d'acqua.